Dopo anni di attesa, l'inizio dei lavori di un parco tematico da 5 milioni di euro che sorgerà nel comune di Taverna diventerà realtà. Il progetto La città delle scienze ambientali, FATA, il villaggio degli elementi, è stato presentato nella sala giunta della provincia di Catanzaro. Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della provincia di Catanzaro Enzo Bruno, il sindaco di Taverna Sebastiano Tarantino e la dirigente competente in materia di sviluppo locale Rosetta Alberto. Il parco tematico è frutto di un'azione di valenza strategica per lo sviluppo turistico locale, realizzato con il finanziamento di circa 5 milioni di euro nell'ambito del progetto integrato di sviluppo locale PIST. Con la città delle scienze ambientali si vuole recuperare e riqualificare un'importante area all'interno del Parco Nazionale della Sila, in località Carbonello, che risultava interamente non utilizzata e costruire infrastrutture realizzate in materiale ecocompatibile e totalmente amovibili. Il parco godrà dei contenuti scientifici e degli allestimenti sviluppati dal Consiglio Nazionale di Ricerca, il CNR, quale partner d'eccezione. Luogo e spazio innovativo della cultura scientifica e ambientale costituirà un attrattore indirizzato prevalentemente ad un target di turismo scolastico-educativo. Il tema centrale dell'intervento si può riassumere in quattro lettere, fata, fuoco, acqua, terra ed aria, che i presocratici chiamavano i quattro elementi, rizoma, ovvero radice di tutte le cose immutabili ed eterne. L'integrazione con gli elementi naturali verrà armonizzato con una concezione architettonica degli spazi espositivi, dove il confine tra dentro e fuori si renderà quasi impercettibile.